Ehi, grazie di essere qui, spero siate bene. Le bombe nucleari sono un inganno con una duplice natura della loro esistenza nelle menti del pubblico. Trovate molte informazioni online se volete cercare. La bomba nucleare è stata un'operazione psicologica. La prima ragione era instillare paura nella coscienza collettiva. La seconda ragione della bomba nucleare era quella di fornirci un altro elemento del centro del nostro piano, l'apertura ed uscita da questa matrice. Trinity è stato il primo test d'esplosione nucleare che si racconta sia accaduto. Nelle foto popolari c'è la forma di una cupola ed una specie di parete di fumo che protegge la parte esterna, la cupola della bomba. Questo ci dice che viviamo in una cupola incassata in una parete di ghiaccio, la quale in qualche modo sostiene questa cupola. È abbastanza strano che il planetario ci mostri una cupola dove ci viene mostrato apertamente che i corpi luminosi si trovano dentro il firmamento della cupola. Le cupole si trovano in molteplici architetture. Da dove arrivano queste forme di cupole? Sono sopra noi. Una delle definizioni di Ground Zero è il punto sul suolo direttamente sopra o sotto la detonazione nucleare. Qui vedete il Ground Zero della bomba Trinity, dopo che è avvenuta l'esplosione. Si vede il segno ad X che ricorda i tanti simboli di uscita della terra piatta e si vede un piccolo cratere al centro. La combinazione di questi fattori fin dall'inizio ci dice che siamo immagini codificate. Vivete in una cupola con le pareti di ghiaccio e dovete arrivare al Ground Zero, all'uscita, in centro. Questa è la novità e vi dico che è chiaro, è nucleare. Il nome Trinity deriva da Santa Trinità. Ci hanno detto che la Trinità è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre si riferisce a Dio, il Padre, la figura masculina della Bibbia. Il Dio di questo piano è in realtà la Dea, è femmina, madre e terra, Lilith, Iside. Ci sono molti nomi di chiamarla. Ci hanno raccontato che questo è l'uomo, colui che ci impedisce di mettersi in comunicazione con questa essenza. L'essenza divina della Dea è originata dal sole nero, che si trova nel paradiso sottostante, la terra dell'eterno crepuscolo. Il sole è Gesù e, quanto dobbiamo sapere da adesso, Gesù è un'allegoria del movimento del nostro sole attraverso lo zodiaco. Questo è il motivo per cui Gesù aveva dodici discepoli, perché ci sono dodici segni zodiacali. Lo Spirito Santo è l'energia verde astrale che sgorga fuori dal sole nero nella forma dell'aurora boreale. Si diffonde anche all'esterno attraverso il nostro piano. Sono tre in uno perché i nostri sono due figli. Sono in realtà un solo figlio che appare frammentato. Una parte d'uscita di luce avviene all'uscita oscura. L'energia non può essere contenuta. Il sole bianco ed il sole nero sono come un circuito elettrico, ciclico. Il sole bianco dà forza ai nostri bisogni fisici, mentre il sole nero prende le nostre intenzioni e le trasforma in realtà. Abbiamo così il sole nero, il sole e la luce astrale. Questa è la vera realtà che ci tengono nascosta. Tutte e due i soli sono la stessa cosa. La luce astrale ci giunge dal sole nero. Ora, ha senso che la sanità trinità si dica rappresenti tre parti della stessa entità. Nuovamente la definizione di ground zero è il punto nel suolo direttamente sopra o sotto alla detonazione nucleare. Ed inoltre il punto di partenza o la base per qualche attività, come quando avete un grande progetto e dite indovina che cosa incomincio da ground zero. Qui alcune foto di bombe nucleari. Che cosa si vede? A cosa assomigliano? Forse all'albero della vita? L'albero della vita era un organismo gigantesco che si trovava al centro del nostro piano. Nella mitologia mondiale, l'albero della vita si dice aveva le radici che si estendevano profondamente nel mondo sottostante. Le sue radici arrivavano dal centro dell'uscita della terra dell'eterno crepuscolo. L'albero della vita è stato tagliato ed ora si trova il monte chiamato Monte Meru. In molte rappresentazioni della bomba nucleare si vede un anello principale che rappresenta il nostro piano piatto con l'albero della vita che spicca fuori dal centro. Non sono coincidenze queste. La bomba nucleare ha progettato questo e ci dice che il ground zero si trova direttamente sotto la stella polare al centro della nostra cupola dove si trovava l'albero della vita. Questo è il punto d'inizio del vortice, il passaggio in cui dovremmo passare per raggiungere la vita eterna. La bomba Trinity si dice sia stata portata fuori dal 7 luglio. Nella numerologia la data era il 7 del 7 e nella numerologia caldea il 7 comanda le lettere O e Z. Si pronuncia Oz. Il nome Oz è conosciuto per essere stato usato da El Frank Baum, autore del Mago di Oz, un'abbreviazione di Osiride. Osiride era il nome del dio egiziano dell'altra vita, il dio del mondo sottostante. Oriside era comunemente rappresentato come il faraone con la cartagione verde o nera. Questo per il motivo per cui l'altro mondo che si trova sotto questo è attivato dal sole nero che emette la luce astrale verde. Si dice che i re dell'Egitto in unione con Osiride ereditavano la vita eterna. Ancora una volta, vivete in una cupola. Il punto X è dove dovete andare, il passaggio santo al ground zero dove c'è il suolo, zero esattamente dove si innalzava l'albero della vita, dove erediterete la vita eterna attraverso l'unione con Osiride, dove la santa trinità del sole nero, del sole bianco e la luce astrale si incontrano. Molte volte si vede un anello d'istinto dorato sulla porzione superiore dell'esplosione nucleare. Questi anelli dorati sono il riferimento che la nostra terra piana è stata spogliata dall'oro ed ora quest'oro giace in alto, sopra le nuvole della nostra atmosfera, dove si estendeva l'immenso albero della vita. Secondo Zecharia Sitchin, gli alieni che in seguito sono diventati gli dei sumeri sono giunti in terra costruendo geneticamente gli esseri umani che potevano estrarre l'oro per loro. La sparizione dell'atmosfera dal loro pianeta Nibiru si dice che avesse bisogno dell'oro. Senza di esso si sarebbe esaurita. Sappiamo che la Terra è un piano piatto racchiuso e che lo spazio non esiste. Sappiamo che alieno significa menzogna. Sitchin è ovviamente un agente della disinformazione, ma nello stesso tempo i suoi falsi insegnamenti si sono intrecciati con molte verità, sparse qui e là. Nibiru è stato chiamato anche il pianeta X. Nel 2003 ci hanno mostrato queste immagini ad infrarossi del pianeta X. Si vede un globo nero che emette energia verde e questa energia ha la forma di due corna attorno al globo nero. Questo ci dice che si tratta della forma divina dell'adea femminile. Il sole nero è l'energia astrale verde. Vediamo le corna perché l'adea spesso è raffigurata con le corna. Iside ha le corna e Lilith ha le corna. Quindi Sitchin in realtà voleva dire che la nostra atmosfera, l'atmosfera delle idee divine, avevano bisogno di oro. L'oro dov'è finito? L'effetto Meissner è l'espulsione di un campo magnetico attorno ad un oggetto superconduttore. Questo permette all'oggetto di levitare. L'effetto Meissner è conosciuto come levitazione quantica. In questo video di levitazione quantica si vede l'oro che fa da rivestimento di protezione del materiale superconduttore. Questo oggetto inoltre è realizzato col cristallo. Il materiale superconduttore ha bisogno di una zona fredda che permette al campo magnetico di diminuire. Per farlo semplice, il campo magnetico interagisce con il materiale conduttore d'oro e cristallo e lo fa levitare. Nella nostra atmosfera l'intensità del campo magnetico si abbassa con più in alto si va, dove c'è anche una diminuzione della temperatura. Come ho spiegato nel mio video delle cave di cristallo, le radici di queste piante giganti che si estendevano attraverso il nostro piano erano riempite di cristallo. Si trattava di forme di vita a base di silice e la silice è il componente principale dei cristalli. Quello che cerco di dirvi è che la combinazione di oro, cristallo e la grande altitudine con il basso campo magnetico può essere assolutamente in grado di sostenere città d'oro nel cielo. Tutte le cave erano piene di cristallo ed ora molte di esse sono vuote. Questi cristalli erano parte delle radici dei giganteschi alberi a base di silice che si trovavano nel nostro piano e che o sono state tagliate, dove è finito tutto l'oro. Una breve ricerca vi mostrerà che nessuno ha la risposta di dove si trova l'oro. Qualcuno dice che si trova in qualche cripta segreta ma non si sa l'ammontare. Abbiamo estratto l'oro per migliaia di anni e tutto questo materiale è stato messo insieme ma nessuno l'ha mai visto. La ragione è che si trova nel cielo. Forse dei giganti hanno impiegato questo materiale per usarlo con l'effetto Meissner per far sì che le loro città levitino in alto sopra le nuvole. E questo è il motivo per cui le esplosioni nucleari mostrano anelli dorati alti sopra l'albero della vita che si dovrebbe estenderla. Qualche anno fa in Cina hanno mostrato delle foto dove i media hanno riportato una città nel cielo. L'immagine mostrava raggi dorati nell'atmosfera. Questo ci è stato mostrato per qualche ragione. L'Oioni è una rappresentazione stilizzata degli organi femminili che rappresenta la dea Shakti. Shakti è la personificazione hindu della grande madre. Shakti ha assunto ruoli differenti attraverso la storia, comprese Kaeli, Derga e Sati. Nell'Oioni si vedono tre livelli rettangolari che circondano il quadrato al centro che rappresenta il grembo materno. Nella filosofia hindu, Yani è l'origine della vita. Nel centro America abbiamo il simbolo Hunab-Ku che simboleggia la sorgente, la culla della creazione. L'Hunab-Ku rappresenta il passaggio in una nuova forma di consapevolezza. Il simbolo Hunab-Ku spesse volte viene chiamato la farfalla galattica. Il dio dei Maya, Itch-Palotl, la rappresentazione del nostro sole nero, viene rappresentato anche come farfalla. È perché il sole nero trasforma le nostre intenzioni in realtà, proprio come la farfalla si è trasformata dal bruco. Si dice che Itch-Palotli indossava un vestito invisibile così che nessuno potesse vederla, il che significa che al momento il sole nero non è visibile nella nostra percezione. Essa comandava Tamaon-Chan. Secondo il codice fiorentino Shagun, Tamaon-Chan significa tornare giù alla nostra casa. Tamaon-Chan, comandata da Itch-Palotl, è il paradiso degli dèi. Questo paradiso si trova sotto la casa degli dèi. Itch-Palotl è la farfalla che si trasforma. E questo ci dice che il paradiso si trova sotto i nostri piedi, dove risiede fisicamente il sole nero, attraverso il ventre cosmico del passaggio al centro del nostro piano. Come il nome Tamaon-Chan significa che andiamo giù a casa. Torniamo al Ground Zero. Molti di voi pensano al memoriale dell'11 settembre di New York, chiamato Ground Zero. Nel memoriale si trovano due fontane a cubo, nere. In tutte e due l'acqua cade al centro. La NASA ci mostra un esagono su Saturno e, come ho detto nei video precedenti, ci troviamo all'interno di Saturno, proprio adesso. La stella di David è la rappresentazione di questo esagono ed è ovunque, attorno a noi, in varie forme. Il cubo, trasformato in angoli, si vede nell'esagono. Noi ci troviamo all'interno dell'esagono, dentro al cubo, proprio adesso. L'esagono di Saturno, che è anche un cubo, è il luogo strumentale di questa proiezione di realtà ed è il motivo per cui ci troviamo dentro una proiezione. Si può dire che siete all'interno di un cubo. Il Ground Zero non è solo il cubo nero, è molto simile allo Ioni, il grembo della creazione. Questo momento ci racconta la stessa cosa, andare al centro. Il Ground Zero, come la bomba Trinity, hanno stabilito chiaramente che si trova sotto, a dove si trovava l'albero della vita, al centro del nostro piano. E' attraverso questa apertura che alcuni di noi lasceranno il cubo col corpo originale. Questa patrice è l'esagono, è il cubo. Il Ground Zero è l'inverso della kaba nella Mecca, in quanto la kaba raffigura di stare nel cubo. Ground Zero raffigura di lasciare il cubo, attraverso il grembo della creazione. Queste sono le coordinate del monumento Ground Zero. Riducendole abbiamo il numero 21 e 7. Tutti e due i numeri sono divisibili per 7 e si ottiene 3. 3 è la Trinità, 77 siamo noi ed Osiride. E per entrare in questo luogo dobbiamo andare dove c'è il luogo zero, la santa apertura. Il mitico paradiso di Iperborea si trova attraverso questa apertura. Hyper significa oltre e Borea significa aurora boreale che fuoriesce dal centro. L'Iperborea si trova oltre questa luce astrale verde. Il poeta greco Pindaro si raffigurava l'Iperborea come un mondo di completa perfezione. La musa non mancava mai al proprio dovere. Le cetre di flauti suonavano e dovunque si udivano i cori delle ragazze. Non esistevano malattie e nemmeno la triste vecchiaia, perché veniva mischiata col sangue sacro. Vivevano lontani dal lavoro e dalla guerra. L'Iperborea è dove dobbiamo dirigerci. E per unirci a questo viaggio utilizzate il Blood Over Intento, dove fianco a fianco su internet si può versare il nostro sangue per portare il paradiso sulla terra. E per il bene di tutti il sangue è la valuta spirituale. La dea di questo mondo risponde al sangue. Ci hanno insegnato che tutto quello che implica versare sangue sia un atto malvagio. E questo ce lo hanno ficcato in testa, cosicché non abbiamo mai potuto scoprire che il sangue è la moneta spirituale che risponde a questa simulazione. L'elite paga la sua intensità malvagia col nostro sangue. Queste sono le guerre. Si tratta del magico sangue di massa che aiuta le loro intenzioni a prendere forma. Dobbiamo fare lo stesso con il nostro intento divino. La luce astrale verde può essere vista come dati divini che piovono su di noi. È il mezzo per la potenza del sole nero. Ecco il motivo per cui queste cose devono essere collettive. Questo mulinello ci circonda, piovendoci addosso ogni istante, come i dati verdi che piovono in basso, in Matrix. Questa energia astrale è il flusso di dati che arriva dal sole nero azionati dalle nostre intenzioni. Nell'ultimo album di David Bowie, il brano singolo principale si chiama Stella Nera. Nel video musicale si vede un sole nero che emette energia verde. Sono veramente rimasto scosso da questo. Qui il mantra nella lirica delle parole è Nella villa di Ormen c'è una candela solitaria nel centro di tutto. Ormen in svedese e norvegese significa serpente. Il serpente è la ragione per cui noi umani si dice abbiamo dovuto lasciare il giardino dell'Eden. Il serpente è sinonimo di Satana. Si dice è colui che fa funzionare questo mondo. Ovviamente è un'allegoria, ma questa storia ci racconta che abitualmente vivevamo nel paradiso attraverso il centro del nostro piano ed una volta bloccati questa parte del piano da diverse incarnazioni, ora viviamo in una matrice retta da principi satanici. Siamo nella villa di Ormen, proprio ora. Questa candela solitaria è la luce astrale che si trova al centro di tutto. Bowie ha cercato di dirci attraverso questo video e con parole misteriose che al centro del nostro piano c'è l'uscita che ci conduce fuori da questa matrice. Siamo nella villa di Ormen, proprio adesso. Attraverso l'uscita c'è la terra dal crepuscolo perpetuo. Una volta lasciato questo posto vedremo veramente il sole nero, molto simile al video di Bowie che ci ha presentato. Il singolo lavoro artistico mostra un'incavatura al centro della griglia simile a quello che ho mostrato nei video precedenti. Questa griglia è posta su questo piano, in questo momento siamo su questa griglia simile ad una scacchiera. Al centro si trova l'uscita da questa griglia. Il messaggio di Bowie è chiaro, una volta passati da questo vortice l'alto diventa il basso. Nella stella nera Bowie dice, siamo nati capovolti, nati nel modo sbagliato. Né i pirati alla fine del mondo, questo concetto di essere capovolti è apparente. I pirati sono intrappolati nel mondo di Levi Johnson, la terra dei morti. Jack Sparrow decifra l'indizio della mappa comprendendo che la nave deve essere capovolta per ritornare nel mondo di Vivi. Poco prima del cambiamento della dimensione si vede un flash verde in lontananza, lo stesso colore esmeraldo della luce astrala, l'aurora boreale. Si può dire che ci troviamo nella terra di David Jones proprio adesso e dobbiamo andare giù per tornare su. Non dobbiamo credere di trovarci in un luogo basato sul denaro, sulla limitazione del tempo. Tutte queste cose che rendono sconfortante la nostra essenza divina. La nostra genetica è stata alterata per contenere il DNA rettiliano. Il nostro cervello ha una corteccia rettiliana che è responsabile per combattere e lottare ed è per questo che i nostri corpi e le nostre menti sono in disaccordo fra loro. La dualità è un'illusione ed è facile vedere le cose in due modi, una volta bloccati in questi corpi. Per alcuni di noi dovremmo essere posti nuovamente nei nostri corpi originali. Siamo stati caricati in questa realtà dove ci siamo addormentati, proprio come in Matrix o in Avatar. Dobbiamo presumere di passare nella porta, al centro, attraverso l'acqua viva, così possiamo raggiungere la vita eterna ed uscire da questa matrice. Questo è quello che ci dice la nostra bussola, di andare dove la lancetta ci guida verso la nostra destinazione. Il gioco è stato decodificato ed ora dobbiamo semplicemente pagare per questa manifestazione con la valuta spirituale, con il nostro sangue. Ancora una volta cercate Blood Over Intent, ripetete quello che vedete nei video e pubblicatelo vicino ai nostri. Ci troviamo qui insieme, più persone condividono il loro sangue, più rapidamente questo sangue magico avrà effetto, il paradiso sulla terra sta arrivando e questo è il modo per noi di riunirci per questo viaggio verso il centro. Molte persone desiderano delle specifiche, ma voglio dirvi che è il tempo di concentrarvi sulle vostre frequenze che vivono dal vostro cuore. Osservate il sole, tutto, e se ve la sentite iniziate a fare del video su questo. Potete usare il mio contenuto quante volte volete. Più persone aiuteranno presto, questo esodo di massa verso il centro inizierà. Grazie per aver guardato e ognuno si prenda cura di sé. Vi amo tutti quanti.